In questi giorni lei è stata al centro di polemiche per l'appoggio di candidati del centro-destra non ben visto da parte dei sostenitori di Sergio Cofferati che hanno chiaramente detto di prendere le distanze adesso da queste persone. Cosa risponde? C'erano delle regole che non consentivano a esponenti, iscritti, militanti del centro-destra di votare mentre le primarie erano libere, quindi ci saranno senz'altro stati cittadini, elettori che precedentemente hanno guardato a destra e poi hanno deciso, magari perché hanno riconosciuto la credibilità e la porta di un tanti dato di sostenimento. Credo che questi siano i miei confronti che di Sergio Cofferati, quindi è evidente che questa è una polemica assoluta. Ho detto con grande chiarezza che le mie alleanze saranno alleanze di cui io guarderò al centro ma che non sono disponibili a fare alleanze con partite che abbiano nella denominazione dei valori un richiamo esplicito alla destra. Chi si allea con me deve stare stabilmente nel campo da gioco del centro-destra.